M.S.I. tra i principali produttori al mondo di laptop ha presentato nel corso dell'evento online M.S.I.ology per i 35 anni dell'azienda le nuove famiglie di computer portatili di ultima generazione studiati apposta per i giocatori tra cui l'esclusivo G.S. 76 Rider Dragon Edition Tiamate. Il Tiamate prende il nome da un'antica dea babilonese e grazie alle sue caratteristiche ne rievoca il potere. Equipaggiato con grafica fino a Nvidia GeForce RT 3080, processori fino a Intel Core i9 e Wi-Fi 6E garantisce le migliori performance ai giocatori più appassionati. I nuovi notebook offrono un significativo incremento delle prestazioni grafiche con tecnologia all'avanguardia e ray tracing più realistica e grazie alle nuove GPU sono in grado di assicurare un gameplay senza paragoni ed esperienze di gioco di livello cinematografico. Per quanto riguarda la connettività c'è il Wi-Fi 6E in grado di operare sulla banda dei 6 GHz per un perfetto streaming video, realtà virtuale e altre esperienze wireless. L'azienda di Taiwan infine ha svelato anche una recente funzionalità di MSI Creator Center che grazie alla collaborazione con Microsoft Azure Cloud è in grado di ottimizzare il sistema sfruttando l'intelligenza artificiale e consentendo di gestire al meglio anche le attività più complesse.